Ragazzi buongiorno e bentornati di nuovo qua con me su Arte Bianca Channel Allora oggi volevo parlarvi di questa novità che riguarda il canale Innanzitutto cosa cambia per il canale ragazzi? Assolutamente nulla, continueremo a fare le nostre cose che facciamo da quando ho aperto il canale Quindi impasti, live eccetera eccetera Poi per quanto riguarda questa nuova sezione che ho creato Allora ve la spiego in breve Qualche giorno Youtube mi ha dato la possibilità di creare una sezione abbonati Dunque con vari piani di abbonamento per voi che mi seguite Se vi fa piacere potete scegliere uno di questi piani Allora sono all'incirca 3 piani quelli che ho creato io Quindi parliamo di un piano base Ovvero un piano in cui basta davvero poco per abbonarsi al mio canale Si parla di 3 euro al mese quindi fatevi il conto Volendo fare una divisione sono 1 euro ogni 10 giorni Volendo farne un'altra sono 10 centesimi Se non vado errato se non sto dando i numeri Al giorno ok quindi davvero davvero si parla del nulla In pratica i vantaggi sono che durante le live avrete una risposta più rapida Ci sarà un budget di riconoscimento sul nome del vostro canale durante le live E poi ovviamente ci sarò io che non mancherà occasione per ringraziarvi in diretta del vostro abbonamento Quindi sarà un qualcosa comunque di simpatico se vi va di abbonarvi a questo piano base Il piano successivo è quello là che io ho nominato avanzato In pratica ragazzi è un piano riservato a chi vuole aderire al piano abbonamenti Che sto offrendo sul canale in maniera appunto come dice il nome stesso In maniera avanzata quindi ci sono delle cose in più che offro Tra cui c'è soprattutto la diciamo una specie di badge O se vogliamo chiamarlo così una specie di coupon sconto Sempre valido del 20% sul totale alla carta Da usufruire nella mia pizzeria ogni qualvolta lo si desidera Faccio un esempio venite di sabato a mangiare la pizza Avete questo sconto del 20% Poi volete venire il giorno dopo Il martedì la settimana successiva Non avete limiti di utilizzo all'interno del mese Ok per l'abbonamento che avete effettuato Per usufruire del coupon Quindi dello sconto del 20% Ci c'è oltre a questo anche altre novità Poi più pertinenti al canale Che riguardano questo piano abbonamento Che sono ovviamente video esclusivi per voi abbonati Una sezione community ovviamente creata per voi abbonati Dove ovviamente io farò riferimento agli abbonati Per annunciare video, futuri, prossime live dedicate agli abbonati Eccetera eccetera Ok quindi questo più o meno è all'incirca la differenza sostanziale Tra il primo e il secondo piano Soprattutto per una questione fisica Tra virgolette Perché voi lo sapete Io prediligo molto di più i rapporti in prima persona Che i rapporti virtuali Dunque se vi va di aderire al secondo piano Come vantaggio più evidente C'è la possibilità di venirmi a trovare in pizzeria E usufruire quindi di uno sconto Relativo alla carta Dunque consumate ciò che volete E avete una bella fetta di sconto Poi per quanto riguarda il terzo piano Che io ho chiamato per l'appunto team arte bianca Cosa si può fare? Allora questo è un piano Innanzitutto come potete capire Un po' più costoso degli altri Ok ma non lasciatevi spaventare Vi spiego subito perché Per chi mi segue da parecchio Per chi in privato mi ha chiesto delle consulenze Per chi in privato mi ha chiesto delle lezioni personali Eccetera eccetera Questa è un'ottima opportunità Se vi fa piacere di aderire a questo piano Perché con questo piano Che quindi si parla di 50 euro circa al mese Avete la possibilità di Uno venire ad impastare con me in pizzeria Decidiamo insieme un giorno È l'orario ovviamente Che vi è più comodo Ed è più comodo a me ovviamente Due Faremo una diretta privata Quindi parlo di dirette Diciamo singole Quindi stiamo solo io e voi Voi intendo io e l'abbonato Ok quindi Sarà una diretta due Dove parleremo di ciò che volete Magari problematiche personali Potete impastare in diretta E io vi do qualche consiglio Oppure potete anche scegliere Di far impastare me Magari ci possiamo mettere Alcordo sempre tranquillamente in privato E dunque seguite il mio impasto in diretta Mi fate delle domande Insomma le solite cose Tutto quello che volete Come terzo vantaggio Che questo ovviamente L'ho messo in elenco Ma non partirà immediatamente Ci tengo a chiudere questa cosa Perché Adesso vi spiego subito Il terzo vantaggio È quello dei live stream Diciamo di abbonati Quindi parlo di dirette Che organizzeremo Ogni 15 giorni Ogni 30 giorni Ma molto probabilmente Ne faremo due a mese Quindi ogni 15 giorni Solo per gli abbonati D'accordo Questo è un vantaggio Che per ora io tengo congelato Ok l'ho messo in elenco Giusto per farlo sapere Che lo farò Ma ce l'ho congelato Perché Perché per il momento Se si abbona soltanto una persona Ok Non possiamo fare Una diretta Magari ecco Pubblica Riservata agli abbonati Con solo Due teste D'accordo Quindi almeno Aspettiamo Che siamo in 4 5 6 E quindi poi Organizziamo Anche questo terzo vantaggio Tra virgolette Ok Per questo piano abbonamenti Ultima cosa Che ci tengo a chiarire Ragazzi Allora Questo piano abbonamenti Che vi ho Brevemente spiegato In questo video È un piano abbonamenti Ve lo ripeto di nuovo Che non cambia Assolutamente La natura del canale Ok Che lo ripeto ancora una volta È un canale no profit Nonostante io stia chiedendo Tra virgolette Dei soldi Per dei piani abbonamento Resta comunque Un canale no profit Nel senso che Non ne traggo Alcun profitto Da queste cifre I pochi euro Perché lo sapete benissimo Nessuno si arricchisce su youtube I pochi euro Che riuscirò a ricavare Dal piano abbonamenti O magari Dalla campagna pubblicitaria Che mi offre Youtube stessa Saranno soldi Che io metterò da parte In un fondo Dedicato Comunque al canale Ok Quindi Ho una pizzeria E fortunatamente Va abbastanza bene Dunque I miei profitti Provengono Esclusivamente Dalla mia attività Il canale Resta Sempre un canale No profit Questi soldi Vi ripeto Andranno in un fondo A parte Dedicato Comunque al canale Dove Li reinvestirò Ovviamente Sempre nel canale Quindi Magari più in là Comprerò Ho un microfono Un po' più decente Ho una fotocamera Più performante Poiché Sapete benissimo Che sto andando Comunque col cellulare D'accordo Quindi Va tutto a vantaggio Stesso del canale Ok Magari Chissà Se riuscirò a mettere Qualcosina da parte Comprerò finalmente Una bella impassatrice Da banco Come dia comanda Quindi Faremo qualcosa di buono Sicuramente A vantaggio del canale Stesso D'accordo ragazzi Non la voglio fare lunga Questa volta Quindi il video Sarà molto breve Per Qualche chiarimento Qualche dubbio Che avete in proposito Potete comunque Scrivermi nei commenti Oppure contattarmi In privato Vi ricordo che la mia mail È sempre Artebianca Channel Chiocciola IAU Quindi qualsiasi domanda Sono sempre a vostra Completa disposizione Ok Ragazzi Con questo Io vi ringrazio Grazie come sempre Dell'attenzione Video molto breve Ci teniamo stanto A chiarire questa cosa Oggi Vi ricordo stasera La live Col grande Nicola Di pizza Pana e fantasia Quindi non mancate Se potete Ovviamente So che la settimana Di ferragosto Vi aspetto Passate anche Soltanto per un saluto Dai D'accordo Ragazzi Grazie E a stasera E a stasera Soltanto per un saluto Grazie.